Una sala dell'ex palazzo del governatorato dedicata a Maurizio Zeppilli, in carica come capogruppo PD in aula a un anno della sua perdita. Grande partecipazione per l'iniziativa portata avanti dal decimo municipio. Era una persona, anche per età, che ha deciso come me di dedicare parte della sua vita, come ha fatto sempre peraltro, a questo territorio. Lo faceva con grande professionalità e a me è mancato molto, perché per me era una spalla importante, tant'è che io alcune deleghe che ho le ho potute tenere perché lui aveva cominciato a darmi una mano. Aver dedicato quest'aula a Maurizio Zeppilli è anche un riconoscimento a una persona speciale. Lui affidava non solo alla parola, all'umore, le cose che doveva dire, e l'umore spesso era una sua concezione dell'umore. Quindi non sempre non riusciva a interpretare che cosa volesse dire. Poi c'era un momento in cui tutto questo veniva comunicato senza problemi. Era un momento in cui lei decideva di regalarti i libri. Non è un caso, in questa stanza abbiamo voluto mettere in un piccolo angolo alcuni dei libri della sua libreria. Io sono la presidente della commissione sport e lui diceva sempre che si era imbarcato in questa folle avventura alla sua età, proprio per occuparsi di sport nel decimo municipio. Come componente del gruppo del Partito Democratico ha dovuto fare da capogruppo, ci giocava su questo e diceva io mi sono candidato per fare il presidente della commissione sport e mi avete costretto a fare il capogruppo. Dunque sarò il tuo braccio destro. A me oggi manca il mio braccio destro, era anche il mio compagno di banco in aula. Penso sempre a lui nei momenti di difficoltà politica e nei momenti di amicizia profonda che ho provato nei suoi confronti. Il professor Paolo Zeppilli ricorda l'impegno nello sport del compianto fratello. Era un dirigente sportivo nato e vedeva lo sport come un momento di aggregazione. Lui ha veramente lavorato tanto per lo sport e ha fatto tante iniziative e noi vogliamo continuare con il solco di quello che lui ha lasciato. Oggi sono un po' emozionato ma molto contento di questa iniziativa per ricordarlo. È un modo bello, ce ne abbiamo altri come il torneo di minivolli che faremo al Pontile. Vorremmo fare un'iniziativa per una borsa di studio per gli studenti di Ostia sportivi e che vanno bene anche a scuola. Diciamo che è una giornata impegnativa per me però molto bella.